E passo la parola a Donatella che vi saluta. Donatella, Donatella, siamo arrivati alla fine pure per questa settimana. Siamo arrivati alla fine a malincuore, però sono certa che ci rincontreremo molto presto perché comunque ci mancherete sicuramente durante l'arco della settimana. Anch'io, come le mie colleghe, voglio ricordarvi il concorso di Miss Valletta il 21, dalle 15 alle 21, mi raccomando, vi accogliamo soprattutto con un grosso abbraccio e vi saluto con un bacio. Allora, un salutone da parte mia a tutti voi, un salutone e un abbraccio a tutti gli sponsor e una rivederci a sabato e ciao da Mimmo Mancino e le mie vallette. Ciao! Ciao! Non andiamoci da fare una... Non ti dimenticare di mettere, non andare avanti indietro con me sopra. Mettere, metterlo a dire. Brava, brava Donatella. Eccoci qua, ancora una volta a Napoli che è passione. Questa è l'ultima trasmissione che faremo qui a Club Cleopatra per questo mese, poi cominceremo il prossimo mese. Allora, detto questo, una buona serata a tutti voi, una buona serata a tutti i telespettatori, a tutti gli ammalati.